Il Comune di Montorio Alvomano ha affidato per sei mesi il servizio di igiene urbana alla Terramo Ambiente. La società controllata dal Comune di Terramo sarà in servizio da subito, questo a seguito del provvedimento di revoca urgente del servizio alla società Montagne Terramana Mote per gravi inadempienze. Come sindaco ho dovuto firmare un'ordinanza di revoca del servizio di igiene urbana al Mote per assegnarla alla Team. Il motivo fondamentale sono le gravi inadempienze del Mote e poi un servizio con molti sprechi e poche performance. Con la Team ci aspettiamo di aumentare il servizio di molto per i cittadini, aumenteranno le frequenze, vuol dire che passeranno in più giorni per la pulizia del nostro bellissimo paese, ci saranno anche più superfici trattate, cioè si tratteranno più strade dal centro alle frazioni. Nei prossimi mesi l'amministrazione guidata dal sindaco Fabio Altitonante valuterà se proseguire con l'affidamento in house providing del servizio alla Team oppure spettare una gara pubblica che gestirà l'Agir, l'agenzia regionale che coordina il ciclo dei rifiuti, valutando la maggiore convenienza per i cittadini. Le buste non ci sarà più la pantomima di consegnarle e contarle, perché le buste noi cittadini montoniesi le pagavamo 100.000 euro all'anno, di cui 36.000 euro solo per la distribuzione. Ecco, le buste si ripristinerà a Palazzo Patrizio un corner self-service, dove i cittadini potranno prendere le buste con buonsenso ed educazione, ma non ci sarà più una spesa di 36.000 euro per chi segna quante buste si prendono. Inoltre la Team in questi mesi farà partire campagne di comunicazione per promuovere la salvaguardia dell'ambiente e verrà consentito ai cittadini di poter usufruire dell'ecocentro di Montorio e del centro di raccolta rifiuti di Teramo, aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Io credo che sia un passo molto importante per Montorio e soprattutto una città come Montorio non si può più permettere di avere aziende al suo servizio che non sono professionali, competenti e trasparenti.